bella a tutti ragazzi siamo qui con questo nuovo video di turbo di smoot un attimo ragazzi che devo sistemare una cosa che è tutta disordinata la camera mia un attimo ecco sto in camera mia e noi ci siamo su turbo di smoot conoscete turbo no di smoot in e cance questo sino allora pre cominciamo io allora io cominciavo sempre da qua piaceva fare sempre che quale cosa veramente non mannaggia quando inizio aspettate no 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 prima cambiamo qua ah è uscito il divano bello è uscita questa è proprio uscita la macchina mmm figa oppure ci mettevo il divano così stiamo belli stessi stessi già noi siamo piccolini mi reggo stai facendo lo stesso col di panno no meglio metterci mettiamoci questa va raga mettiamoci questo mettiamoci aspetta che cambiamo forma non così non così da dentro vabbè e stai ragazzi ci bagga ecco cacchio ragazzi stanno andando stanno andando vediamo quanto va vediamo quanto va vediamo quanto va il crano si è staccato e sta continuando ragazzi ora cambiamo mettiamoci 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 il quad c'è posso comprare lo skate posso comprare bello la Lamborghini ma compro lo spendo tutti i soldi mo spendo si è 99 ah no 1 euro ma ci mettiamoci 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 questa ecco ma sciarica no cazzo voglio farla andare velocissima ma veloce quanto vento si manco manco mia mia nonna riesce ad andare così veloce ecco ragazzi uimì 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 oddio ho volato no no vabbè io ho volato come mai ho volato uimì 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 uim rallentatore proprio rallentatore facciamo un po' più veloce veloce vabbè va ora ci mettiamo un'auto davvero bellissima troviamola eccola noi siamo ricchi noi siamo ricchi ma che cazzo ho messo va lentissima una limousine normale va normale va toffiamoci cacchio il crano non si è rotto quindi è vivo è vivo è vivo raga seleziamo il livello bella video no mettiamo questo mettiamo sì no andiamo con questo andiamo padrone dove andiamo andiamo a mamma ok non ho preso nemmeno è morta raga fai così vai forza la prendi forza la prendi prendila devo andare più lento raga eccoci qua è più lento poi la mia ragazza ha detto ci deve essere un canale o di mio fratello no o di mio fratello o un mio o uno suo no scusa io li ho creati e poi io ho deciso di fare un sto di essere youtuber io l'ho deciso mentre lui stava vabbè no va bene so cazzo cazzo ahahahah 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 madonna mia quanto fa ridere andiamo un'altra stavolta se siamo lì mettiamo mettiamo questo la polizia mettiamo questo la polizia raga polizia ora stavolta non ci potete prendere perché stavolta voleremo il post bus non ci potrete vedere noi siamo normali mmm veloce andiamo attento alla polizia cazzo abbiamo rapinato la banca cazzo la banca stiamo rapinando io non voglio essere un rapinatore no raga cazzo ma vai ma e ciao non mi metto ma questo ma mi metto una cosa molto bella questo con le alivone andrebbe bene no ma tu sei ancora bambino quindi guidi la mamma la macchina del papà degli anni 80 degli anni 80 o degli anni 90 era sta macchina degli anni 80 nooo no degli anni 70 no degli anni 70 sì degli anni 80 sì 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 a cara di kid c'era questa degli anni 80 mettiamo le lampe una qua proprio bella la mettiamo la mettiamo così mettiamo i birilli qua pure mentre qua no mentre qua mettiamo queste e qua mettiamo e raga qua mettiamo una questa lolsic grazie un attimo ragazzi dopo questa cosa aspetta dopo questa cosa avrei di concludere il video qua aspettate ragazzi un attimo bene ragazzi ero andato un attimo che mia madre non voleva che dovevamo andare cazzo e vami veloce che dovevamo uscire mo sono le 12 e mezza notte ecco raga ecco raga un attimo ragazzi eccomi dovete vedere che figata dovevate vederlo raga una figata pazzesca è stata cioè ma neanche se ho camminato e basta no raga dovevate vederlo non va veloce non va prindime prindime non ci riesci prindime che non riesci prindime prindime raga no va no va il motore l'abbiamo rotto l'abbiamo rotto l'abbiamo rotto adesso no adesso no usa qualche ragazzi stavolta ragazzi stavolta ho un'idea cambiamo qua e mettiamo ecco ecco piano piano andiamo con lo sterzo piano piano ho direttamente cazzo cazzo non ho detto cazzo vai ancora intatta bene se si toglie e un attimo se si toglie e lo rifaccio aspetta però stavolta con la faccio non conquista con una molto figa ma molto col pivot ecco la va veloce cazzo cazzo oddio oddio il pivot ma una gente che va in divano non so sai tenera attento piano ma che fai mi ha rotto stavolta non vai col pivot allora vai 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 ehi amico sto venendo attento amico amico cazzo aspettiamo ora ci mettiamo una bella rampa ma ci mettiamo al posto di qua ci mettiamo una rampa tanta ci mettiamo ci mettiamo no ci mettiamo allo posto ci mettiamo questa e qua ci mettiamo la bozzangra qua ci mettiamo aspetta qua ci mettiamo questo qua vai ieri di andare raga cazzo vai 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 amichi vai no non c'è andata proprio bene em aspetta ora gira gira con lo stesso gira prendimi ah si non mi vuoi prendere stavolta vediamo cambiamo sia che macchina metto questo poi cambiamo anche qua ecco raga che ho fatto investimi tanto beh raga direi di concludere qui l'episodio aspettate noi facciamo questo cazzo cazzo siamo la moto siamo la moto senti raga no perché ho chiuso stavolta sapete che mettiamo non la rampa no perché vabbè cazzo non mettiamo stavolta mettiamo questo mettiamo il camion ragazzi io stavolta mettiamo il camion e qua metteremo la rampa la rampa perché dove sta dove sta aia raga ragazzi è arrivato mio fratello abbiamo messo il camion aspettate vediamo come va sul camion vediamo come va sul camion ma che sei scemo no ma hai mai visto un camion che può andare sulla rampa si uno si però è caduto e si è morto e si è rotto e si è rotto il coglione lasciami andare via polizia non va non va non va stavolta riproviamo la super velocità stavolta frega è arrivata wow mio dio no non va proprio col camion raga si 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 sta continuando raga boom abbiamo rotto boom bitch raga abbiamo rotto abbiamo vinto cazzo abbiamo vinto direi di concludere qui l'episodio ciao raga